La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che uno Stato membro non può vietare ai produttori di sostituti della carne a base vegetale di chiamare il loro prodotto hamburger vegetariano o filetto vegano, in assenza di una definizione giuridica del prodotto. A volte a base di soia o grano, questi prodotti possono quindi rimanere sugli scaffali dei supermercati con questo nome. Le opinioni dei consumatori sono diverse. Tutte le recette sono souvent a base di viande e quindi, in tant che vegetariana, mi facilita di seguire più le recette se il nome di viande è già inscritto. Questa sentenza contraddice i decreti francesi che vietano a produttori di sostituti della carne a base vegetale di utilizzare le parole bistecca, scaloppina o prosciutto. Ma cosa significa questa sentenza per il mercato europeo? Le associazioni vegetariane e vegane l'accolgono come una vittoria per la trasparenza dei consumatori. L'industria della carne non dovrebbe subire alcuna conseguenza secondo le associazioni. Tuttavia, un rappresentante dell'industria mette in guardia dalla frammentazione del mercato comune se ogni Stato membro dovesse adottare una definizione diversa dello stesso prodotto. La partita non è finita. In teoria, uno Stato membro che adotti una definizione giuridica di cosa sia una bistecca, potrebbe anche ritirare termini come bistecca vegetariana o altre etichette.